L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato, con 16 voti favorevoli e 8 astensioni, il nuovo PRINA, il Piano Regionale Integrato Non Autosufficienza. Relatore dell'atto è stato il Presidente della Commissione Sanità e Servizi Sociali Massimo Buconi, che ne ha illustrato in aula le caratteristiche e la dotazione finanziaria. Ai 5.854.000 euro destinati all'Umbria dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza si aggiungono 4 milioni di risorse regionali, di cui 2 per la quota sociale, che saranno erogati direttamente ai comuni, con almeno il 20% riservato all'assistenza domiciliare. In totale si tratta di 9.854.000 euro destinati alla Non Autosufficienza. Il tratto distintivo del nuovo documento sta nel rafforzamento del sostegno all'assistenza domiciliare, ritenuta maggiormente utile e funzionale sia per le famiglie che per le strutture sanitarie. Sarà attuata una strutturazione diversa della semiresidenziale per tutte le categorie della non autosufficienza e laddove è possibile una riconversione di posti residenziali in semiresidenziali oppure nei cosiddetti ricoveri di sollievo, per i casi di familiari che non possono seguire a casa i congiunti non autosufficienti per motivi di lavoro o altri e che quindi necessitano di ricoverarli.